Emanuele Filiberto divorzia, la sua fiamma e una cantante famosa. Rumors girano sul web che l'amore tra il principe Emanuele Filiberto e l'attrice francese Clotilde Curau, noti per il loro matrimonio nel 2003, possa essere finito. Nonostante la mancanza di una conferma ufficiale, un recente scoop fotografico sembra suggerire che Emanuele Filiberto possa avere una nuova relazione. Il principe Emanuele Filiberto ha vissuto una lunga storia d'amore con Clotilde Curau, con cui si è unito in matrimonio il 25 settembre 2003 a Roma. Dalla loro unione sono nate due figlie, Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria, principessa reale di Savoia, e Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, anch'essa principessa reale di Savoia. Ad oggi, le voci di una possibile fine della loro relazione sono diventate sempre più insistenti. Paparazzi beccano Emanuele Filiberto con un'altra donna. Il settimanale Diva e Donna ha recentemente rilasciato delle fotografie, che ritraggono Emanuele Filiberto in compagnia di un'altra donna. Alimentando così le speculazioni sulla fine del suo matrimonio con Clotilde Curau. Questa donna potrebbe essere la nuova fiamma del principe, anche se la relazione non è ancora stata ufficializzata. Le fotografie mostrano Emanuele Filiberto e una donna non identificata che condividono un bacio appassionato, suggerendo una forte complicità tra i due. Secondo alcune fonti, la donna potrebbe essere Nadia Lanfranconi, cantante italiana trasferita negli Stati Uniti nel 2007, e nota per un flirt passato con Nell Gibson. Mentre attendiamo la conferma o la smentita da parte del principe Emanuele Filiberto, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi su questa intrigante storia. Vi dispiace per questa notizia? A voi i commenti! A voi i commenti!